Inktober giorno 8, match, fiammifero. Ho voluto rappresentare una figura come un fiammifero, un po' bruciacchiata, sopra la quale arde una fiamma lenta, calma, molto diversa da quella che ha dipinto qualche giorno fa per il tema fiamma. Se volete scoprire il processo creativo dietro ad ogni dipinto di questa prima settimana di Inktober, vi rimando al video che è uscito questa settimana sul mio canale YouTube. Grazie a tutti.